Ciao Fregoline e ciao ragazzi! Allora, questo è un video speciale, un video diverso, è un po' in ritardo perché mi sono dimenticata di registrarlo e giustamente lo sto registrando adesso. Adesso, voi lo vedete, se non mi sbaglio, il 26 settembre, ma doveva essere su prima di giugno, ma siccome c'è stato tutto questo casino e ho registrato troppi video, alla fine questo video non è andato su prima. Per cui lo vedete adesso, scusate, ma amen. Si va in vacanza anche a dicembre e anche ottobre o settembre, non è che dobbiamo andare in vacanza per forza a ottobre. Per cui avete già letto il titolo e vorrei parlare di questo posto spettacolare. Credo che mi vedete meglio perché sto usando la GoPro, per cui non ci saranno problemi. L'unico problema è la luce perché sto registrando di sera. Comunque, questa è una sponsorizzazione con un amico che ovviamente abbiamo deciso di fare questa sponsorizzazione di questo B&B, cioè B&B è praticamente casa vacanza, per cui vorrei sponsorizzare questa casa vacanza perché gli ho chiesto io se potevo farlo. Lui ha fatto il video che ovviamente vi metterò la clip di due minuti di questo video, di questo posto bellissimo, dove io ovviamente sono andata ed è un posto stupendo, ve lo straconsiglio. Volevo parlare di questo posto, specialmente di questa casa vacanza appena costruita in questi mesi, che ovviamente parlo di febbraio, per cui è già stata fatta da più di febbraio e gennaio. Per cui questa casa vacanza è abbastanza grande, è grandissima. Ovviamente, intanto che io parlo, vi farò vedere questa clip, o forse è meglio che la metterò a fine video, adesso vediamo. Perché quando io faccio i video, certe volte non so se mettere prima, se metterli dopo, se metterli quando io parlo ed è una cosa, però vabbè, lasciamo perdere. Allora, prima di tutto vorrei che seguite questo mio amico su YouTube, che ha un canale, che vi lascio giù il suo link del canale, per cui andatelo a seguire. Perché lui fa i video spettacolari, e grazie a lui ho fatto qualche clip, qualcosa. Cioè, lui mi ha fatto qualche clip, quelle che avete visto sul telefilm che io vi ho fatto a luglio. Per cui, tutte le clip che avete visto, belle, spettacolari, col drone, eccetera, eccetera, sono tutte fatte da lui. Perché lui mi ha aiutato, mi ha dato una mano, per cui volevo precisare anche questa cosa. E siccome molte persone non ci credono, e a me le persone che, ok, non devo dare, diciamo... Cioè, non devo far vedere queste cose, e a dire se è vero o non è vero, perché ovviamente lo so io. Però voglio far capire, specialmente alle persone che mi hanno detto nel clip del telefilm, che molte clip non sono mie. E io vorrei precisare questo, che queste clip che avete visto nel telefilm, sono fatte da questo mio amico qua. Per cui, lui è bravissimo a fare i video, andatelo a seguire, che si chiama Nino, vi lascio giù il link del suo canale. E ovviamente ci sarà anche questa clip sul suo canale. Però siccome volevo far sì che sponsorizzavo questa casa vacanza, ho chiesto a lui se mi poteva dare questa clip, siccome l'avevo vista già sul canale e lui me l'aveva già fatta vedere, l'ha messa anche lui sul suo canale. Ma siccome io ho molti più iscritti di lui, per fargli ancora più pubblicità, giustamente, metto questa clip. Che questa clip andrà di sicuro a fine video, quando io finirò di parlare. Comunque, in poche parole, questa casa vacanza c'è dentro la cucina, che è gigantesca. C'è gigantesca, una normale cucina molto bella. È molto spaziosa perché c'è il terrazzo grande, la camera da letto matrimoniale. E in più trovate anche una stanza in più per le bambini, bambini, se avete tre o quattro figli. Lì dipende ovviamente quante persone siete. È una casa vacanza molto grande, il bagno anche quello è grandissimo. Io vi sto parlando adesso, ma poi vi farò vedere le clip. Il fuori è grande, dove potete andare in giardino, potete andare sulla terrazza. Ha una vista spettacolare, per cui vedete fuori dalla finestra una cosa spettacolare. Si trova, diciamo, vicino a Maiori. Beh, vicino vicino no, adesso non so più o meno quanto. È un po' distante da Maiori. E questa casa vacanza si chiama la Cornice dei Monti. Per cui vi consiglio questo spettacolo di casa vacanza, ma specialmente per visitare Maiori, Amalfi, Napoli, Salerno e tutte altre città che ci sono lì. A fine video vi lascio anche giù le mail e il numero di telefono, che se volete contattare la responsabile di casa vacanza o inviargli una mail, non lo so, vi lascio a fine video i suoi numeri e le mail, se siete interessati. Allora, lì potete visitare le città oppure potete andare al mare. Giustamente è consigliabile andare al mare da giugno, credo anche in aprile, perché lì fa caldo, per cui credo da aprile fino a settembre, fine settembre, più o meno, perché dovrebbe essere che almeno, lui mi ha detto che lì fa caldo ancora, per cui vi consiglio di andare più o meno in questi mesi, se volete andare al mare. E' un po' distante dal mare questa casa vacanza, ci vuole la macchina, ci vuole il bus, però diciamo che per 4, 5, 6 persone, o anche per, se non sbaglio, anche 2 persone, ci stanno, per cui è una casa vacanza molto bella. Invece per il fatto di andare a visitare, come ho fatto io, e chi non ha visto i miei video a gennaio, perché io sono andata a gennaio, ovviamente non sono andata in quella casa vacanza, ma sono andata in un'altra, più o meno sempre lì vicino, però io ho visto questa, che è spettacolare, e ve lo straconsiglio. Vi consiglio di andare a vedere i posti, specialmente a Malfi, che è una cosa spettacolare, è bellissimo di andare a vedere, e più o meno, diciamo che io mi sono, cioè, i posti in quelle parti sono veramente spettacolari, io ho fatto tantamente tante foto in 4 giorni, che avevo praticamente ogni minuto facevo foto, per cui ve lo straconsiglio, andate a vedere quei posti, perché è bellissimo. Per cui, se volete fare un bel giretto in quelle città, in quei posti, mi raccomando, andate in questa casa vacanza, perché è grande, è messa bene, sono gentilissimi, e giustamente lì, la vista è spettacolare, per cui voglio precisare anche questo, anche se l'avevo detto prima, però fa niente. Certe volte ripeto le stesse cose e non mi ricordo. Allora, detto questo, adesso vi farò vedere la clip, per cui finisco qui di parlare, vi faccio vedere la clip, mi raccomando, se volete andare, vi lascio a fine video il numero di telefono e le mail, se volete sapere di più, contattatemi in privato, o anche sotto in questo video, e se volete, non so, andare a vedere i nuovi video che ha fatto il mio amico, andatelo a vedere sul suo canale, perché ce ne sono tanti. Mi raccomando, voglio precisare questa cosa qua, certi video che vedete, che sono quasi uguali, nello stesso suo canale, vuol dire che me l'ha dati lui, per fare la sponsorizzazione, nei suoi video, eccetera. Per cui, siccome lui è molto bravo a riprendere, eccetera, lui mi ha dato tutti questi video, per far sì che io lo sponsorizzo. Infatti, se qualcuno ovviamente vuole che io sponsorizzo voi o qualcosa, fatemi sapere sotto nei commenti, oppure anche in privato, io leggerò sempre le cose in privato, e vi scriverò, ovviamente. Detto questo, siccome parlo troppo, ci vediamo al prossimo video. Guardate fino in fondo la clip, scusate se parlo troppo e questo video dura troppo. Spero che hai detto tutto, e se ho dimenticato qualcosa, ve lo dirò altrimenti sotto qua in messaggi, o ve lo scriverò a fine video, ma non credo. Per cui, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti